La competizione per la riproduzione fa parte delle dure leggi della selezione naturale, così come la predazione. È importante possedere un proprio territorio di caccia o di riproduzione, che spesso viene difeso con tenacia e accanimento. La vita si svolge attraverso grandi e piccoli processi naturali, di cui sono protagonisti sia le prede che i predatori.